Ad un anno e mezzo dall'approvazione di un consiglio regionale di una mozione per la valorizzazione della Porrettana, la regione non ha ancora rinnovato il protocollo, ma è scaduto, con i comuni del comprensorio della Porrettana e l'Emilia-Romagna. È la posizione di Fratelli d'Italia che con il consigliere Pistoiese, vicepresidente della Commissione Trasporti, Alessandro Capecchi, è tornata a sollevare la questione. La richiesta, votata all'unanimità dell'Assemblea Toscana, era che la Giunta valutasse la creazione di un capitolo di bilancio specifico dedicato alla valorizzazione della tratta. Di investire attraverso la sottoscrizione del protocollo che già in passato aveva legato regione toscana, Emilia-Romagna, comune di Pistoia e comune di Alto Reno Terme per la valorizzazione di questa importante infrastruttura e soprattutto riproponendo anche il tema della valorizzazione turistica e promozionale della Porrettana attraverso il riconoscimento come sito dell'UNESCO. Il tutto, sottolinea Capecchi, a fronti di investimenti da parte di RFI sulla linea. Circa un chilometro di rifacimento del binario tra Piteccio e Corbezzi, quindi per un valore di complessivi 2 milioni di euro. In realtà la Regione Toscana non ha ancora stanziato ulteriori risorse per la valorizzazione di questa importante infrastruttura e le ricordiamo ovviamente rappresenta un unicum nel panorama nazionale e internazionale per come è stata costruita ma soprattutto rappresenta e rappresenterebbe dal punto di vista turistico, sociale ed economico un importante volano per tutta la nostra montagna.